in questo numero del salus tg fare rete contro la sclerosi multipla l'impegno dell'aism accesso a cure palliative negato al 40 per cento dei pazienti con dolore cronico la lezione di emma bonino per le donne di umberto veronesi sette alleati contro il cancro è il pilastro della giornata mondiale dedicata alla patologia appena celebrata è anche il punto di forza dell'associazione italiana sclerosi multipla e della sua fondazione riunite per il congresso annuale a roma quest'anno il congresso scientifico e la giornata mondiale della sclerosi multipla hanno uno slogan insieme più forti della sclerosi multipla a sottolineare che con l'impegno di tutti insieme possiamo essere più forti della sclerosi multipla e quindi permettere alle persone con sclerosi multipla e le loro famiglie di vivere la loro vita dimenticandosi di questa malattia a cinque anni dall'approvazione della legge 38 del 2010 ancora il 40 per cento delle persone con una condizione di dolore cronico non riesce ad accedere alla terapia del dolore le cosiddette cure palliative a lanciare l'allarme e la fondazione gigi ghirotti che al ministero della salute a roma ha presentato la giornata nazionale del sollievo che si celebrerà domenica 31 maggio prima regola dire io non sono il mio tumore ma resto una persona e poi fare progetti avere fiducia nei medici seguirli con disciplina e pazienza e ancora parlare della mia malattia soprattutto con chi la sta combattendo come me avere intorno la mia famiglia e gli amici e guardare avanti sono questi sette leati di emma bonino nella sua sfida contro il cancro una sfida che non avrei voluto vivere ma che sto affrontando con impegno così la leader radicale colpita da un tumore polmonare parla alle pazienti dell'oncologo umberto veronesi a milano in una testimonianza video registrata per l'evento ieo per le donne